Beppe Grillo propone l'abolizione dei sindacati facendo diventare i lavoratori azionisti delle aziende. Cosa pensa in proposito? I lavoratori azionisti delle aziende non sono incompatibili con la presenza di un sindacato. Io francamente non capisco perché Beppe Grillo li voglia mettere in contrapposizione. Certamente aprire i nostri consigli di amministrazione a esponenti del sindacato in una cogestione che potrebbe fare gli interessi dell'azienda è una buona idea. Certamente bisogna fare in modo che questa buona idea però si confronti con il nuovo sistema delle aziende che è sempre più multinazionale e che quindi ha bisogno che la rappresentanza sindacale sia legata a chi abita e lavora in fabbrica ma soprattutto in rete con gli altri lavoratori dove queste aziende sono presenti.